bene signori eccoci qui sono jb e qui di fianco a me c'è un ospite speciale il signor capuzzi buonasera a tutti oggi come vedete proviamo un nuovo gioco che come dire dimostra come funzionano gli ospedali in italia la situazione è critica signori clicktube game il gioco è diciamo quasi molto semplice perché alla fine sei una mano devi solo fare delle operazioni molto delicate con a w e r e la barra spaziatrice su uno le dita potete fare qualsiasi cosa e quando dico qualsiasi cosa dico qualsiasi cosa e per quelli come noi viva il rock rock and roll peace and love ok vabbè andiamo ok scoperto che il dottore è un rocchettardo si con un orologino dei cinesi che si staccherà la prima occasione bene operation la prima operazione consiste nel piantare un nuovo cuore togliendo scopriamo che ne pianti due certo ecco che iniziamo signori un'arcana verità allora sta puntura la leviamo prima dalle palle prima che ti fai male pace e bene faveri ecco appunto prima di partire facciamo il segno della croce ecco qua bene partiamo prendendo le ketanfetamine sì appunto perché mi prende solo con quello ecco un po' i tasti li hanno fatti alla san frasol è italiano anche ecco qua finalmente abbiamo preso come real lì c'è si attaccato è un attaccabrile ma secondo me dobbiamo incidere sai dove? qua vicino ma cosi è più largo se io taglio qua poi sei troppo vicino alla pelle e che sei ecco qua appunto oddio come perde l'angolo rain in blood noi finiamo prima di tagliare il corpo e poi fermiamo l'emorragia quando ci perdiamo? oh c***o vai tagliato tagliato stiamo continuando a tagliare il nulla è un'operazione che richiede mano ferma esatto molto ferma no no non hai capito mano ferma cioè proprio glielo dice mano ferma stai ferma cosa stai facendo? what the f***o? stiamo perdendo il paziente questo è poco ma sicuro ma specialmente richiederà molti soldi perché questa persona ha studiato per fare il macellaio si il macellaio si è proprio ora oddio mo lo decapitiamo la siringa dove è la siringa? lì lì piano e piano oddio che mi buco troca eh l'ho preso adesso ce la spariamo nelle vene ecco qua no aspetta lo stai facendo perdere più? no no è che bisogna perdere un orologio questo l'orologio vede in cina ecco come potete vedere si è fermata l'emorragia in alto a destra però perde del sangue là vabbè zampilla lo stiamo uccidendo ma lui non se ne è accorto ha perso ma notare soprattutto che noi lavoriamo senza quanti perché noi siamo manovali e noi ci teniamo ecco infatti che schifo che si sono ingattate le costole va bene prendiamo un polmone quando lui dirà a un certo punto mi sento un buco nello stomaco che cos'è ti mancano le costole tutta la cacchia stacchiamo con delicatezza staccati adesso rompiamo tutti i vasi sanguigni là dentro stacca un bel pezzo di carne signora come glielo tagliamo facciamo il non so se lo conoscete la zuppa forte di Napoli boh che si fa con ecco togliamo pure il fegato non so perché vabbè era lì e dovremmo prendere il bisturi quale quale vi piace di più vabbè quello col manico nero mi piace di più infatti ci sta sta cosa che wow 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 è questo il destino che devi prendere quello nero quello nero eh già ora andiamo a bucare qua credo circa no non è là là vedete ecco e quella ce l'abbiamo non è andato anche quest'altro non è andato no non ancora paura di bucare il cuore devo vedere meglio guarda dove metti le mani quali mani solitamente si usa nei piedi però vale ma certo oh cazzo mi è caduto il bisturi bisturi cattivello non come non si stacca sui ti direi una cosa il confine di trappone che sta andando che cosa il trapano il tagliare è il suo caso è stato adesso stiamo tagliando ora dobbiamo tagliare quella venola distrappere il cuore ecco credo di averlo fatto una una si ci sta un'altra e se non si stacca non si stacca e si è staccata batte ancora beh poi giuriamo la puttana batte sempre proviamo a toglierlo non ci sono la mano monca però se batte vuol dire che è attaccato ma vabbè il cuore batte anche una volta staccato e che sta perdendo sangue no non lo sta perdendo sangue ma un po' sì ma chi sono io no niente bisogna tagliare qualcos'altro aspetta riprendiamo il nostro splendido bispo quando ce lo faremo per questo salutatemelo gente salutatemelo però senza fritta eh certo eh dai che ci vuoi cosa vuoi che ci voglia fare a tagliare un cuore chi non si è mai portato ecco qua si è tagliato gli facciamo un'altra siringa di cioè di roba verde che non si sa che cos'è spostiamo un attimo potrebbe essere adattamente come roba quanti ne ho presi in ora troppi c'è pure quella blu per scoprire questo qui che mi cade un'altra volta però magari a sapere che cosa c'è dentro questa siringa signori ferma l'emorragia ecco in faccia gliela facciamo ovvio e che cosa facciamo noi adesso prendiamo tutti i pezzi di ossa che c'è dentro no le ossa che c'è dentro prendiamo il cuore prima il camore eccolo qua lo facciamo delicatamente fra i bisturi e prendiamo il nuovo cuore che dovrebbe essere e adesso tipo ci hanno dato un cervello eccolo qua ricordatevi che qui siamo in Italia perciò in Italia finiscono così le operazioni ecco qua abbiamo vinto da signori abbiamo sostituito il cuore bene e che fosse innamorato c'è il cuore spezzato vogliamo dare consiglio eh finito questo game play di cosa qua è più un documentario di come funzionano gli ospedali in Italia esatto tanti saluti da Dribbi e da qui l'amico Capuz buonasalve buonasalve ciao cari ciao